Ho fatto una scaletta perché credo di dover dedicare non più di tre minuti al mio intervento visto che tanto si è già detto, tanto si è fatto in questi mesi dal momento in cui abbiamo iniziato a ripensare alla seconda edizione di Donne e Tecnologie. Un'idea nata tre anni fa, quasi per scherzo, che ha saputo però in questi anni crescere. Ha saputo grazie al contributo di tantissime persone, più di 3.000 persone che usano sistemi innovativi per alcuni di noi, come il social networking, piuttosto che la manovalanza, l'assistenza, il volontariato sensibile e attento dietro le quinte ha permesso ad oggi di arrivare a dei numeri davvero significativi ma soprattutto a rendere questo evento di per sé già un modello di innovazione. Perché è un modello di innovazione questa conferenza? Perché oggi è un evento che viene e arriva dopo mesi e mesi di lavoro, di laboratorio condiviso, di idee nelle quali le persone hanno identificato temi, hanno segnalato relatori, hanno segnalato persone che fanno parte del comitato di programma, del comitato strategico e da questo insieme al presidente del comitato strategico, la professoressa Sami, alla co-program chairwoman Fiorella Operto per il comitato di programma, noi abbiamo cercato con l'aiuto di tutti di indirizzare questa navicella tenendo conto dello scarroccio e dei venti. Questo per dire che non è finita qua, il laboratorio continua per un altro, tutto il tempo che vorrà, dipende dall'utente, dipende da chi è coinvolto ed è nata un'altra iniziativa, un'associazione donne e tecnologie, sempre voluta da amiche, persone di grandissimo livello che hanno creduto in questa iniziativa, che spero mi affiancherà sempre di più, ci affiancherà sempre di più a far crescere questo progetto. Che caratteristica ha questo progetto? Perché donne e tecnologie? Perché riteniamo tutti che sia un binomio prigioniero di troppi luoghi comuni. Il mio ringraziamento parte dalle bambine, dalle bambine e dai ragazzi, scusate, dai ragazzi e dalle ragazze che sono qui con me sul palco. Loro sono i nativi digitali. Io ho dedicato 26 anni della mia attività professionale di imprenditrice, di ricercatrice a cercare di insegnare ai bambini e agli adulti a diventare digitali. Ora osservo loro e spero di apprendere da loro come comunicare, imparare, informare, informarsi. Grazie ragazzi, perché voi siete la testimonianza che il nostro titolo 2008-2015 è una concreta realtà. Grazie ai vostri insegnanti, ai vostri genitori e alla scuola di robotica che hanno permesso che voi siate qua oggi con noi. Lo stereotipo che cerchiamo di combattere sulle donne e le tecnologie è quello che vede le donne come utenti delle tecnologie, solo utenti delle tecnologie. Le donne che attraverso il telelavoro o i sistemi di telefonia mobile riescono a risparmiare tempo, a guardare i bambini e quindi a lavorare magari 18 ore invece delle solite 8. Attenzione perché questo è un grande pericolo. Le tecnologie abilitano e ci aiutano certamente a semplificare un pochino la nostra vita, ma non dobbiamo correre il rischio di essere schiavi della tecnologia. Ma c'è tutto un altro mondo che è molto meno visibile, che è l'obiettivo della nostra conferenza e del nostro lavoro, che è quello di dare visibilità a donne che nel mondo hanno dimostrato di essere non solo utilizzatrici, ma inventrici del futuro, perché creatrici di tecnologie, di nuovi contenuti, di nuovi servizi. Sempre di più anche l'Information Communication Technologies è oggetto di uno stereotipo. Non pensiamo più, e abbiamo tutti condiviso questa affermazione iniziale, che lo sviluppo di una tecnologia veda gli utenti come semplici utilizzatori. Ora le tecnologie si sviluppano avendo come parte integrante dell'ideazione gli utenti stessi, altrimenti l'approccio top down e non a spirale non sarà certamente foriero di successi. Devo continuare senza dilungarmi sui temi delle tavole rotonde. Ho preferito mettere tutto in cartella perché oggi è una giornata di lavoro, non oltre che di gioia, perché significa il risultato di 12 mesi di dialogo, di conversazione, di partecipazione condivisa e lottata. Devo cercare di fare velocemente alcuni ringraziamenti. Il mio ringraziamento ovviamente va nell'ordine al padrone di casa, dottor Galli e anche a Federica Villa perché è stata sua l'idea di trovare un accordo, di suggerirmi di spostare donne e tecnologie all'interno di questo magnifico punto d'eccellenza della città di Milano e non sola. La collaborazione è stata straordinaria e un ringraziamento a tutti coloro che hanno insieme allo staff di Didel e contribuito perché oggi facessimo meno errori possibili. Il secondo ringraziamento è al mio presidente Carlo Sangalli. Di lui voglio dire una sola cosa. Ho partecipato e sono stata e sono attualmente anche in diverse organizzazioni, associazioni, consigli di amministrazione. Della esperienza in Camera di Commercio, ma soprattutto l'esperienza del lavoro comune con il dottor Calucio Sangalli, mi è rimasto questo. Lui ha la cultura dell'ascolto e la cultura dell'ascolto non è tanto comune tra i decisori. La cultura dell'ascolto significa che se in qualche consiglio, magari anche cinque anni fa, qualcosa io portavo come piccolo seme me lo ritrovo magari ampliato, ingigantito e realizzato in eventi, in progetti, in proposte, in bandi di gare che magari gestiscono altri. Ma la soddisfazione della partecipazione è questa, è vedere realizzato qualche piccola idea. Quindi grazie, Presidente.